Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino, alle nostre spalle un piccolo mosaico della Madonna delle Grazie. A questo indirizzo i mail che vedete in sovrimpressione ci scrivete e siete veramente in tanti. Un po' alla volta stiamo leggendo tutte le vostre storie, le vostre testimonianze, come ad esempio la storia di Maria che ci racconta che più di un anno fa, all'età di 69 anni, in seguito ad una caduta dovuta ad ostacoli dalle imprevisti in quanto coperti dall'erba è iniziato un calvario, il suo calvario. Fratture varie, ginocchio, bacino. Subito dopo poi ha cominciato un giro di medici specialisti, più accertamenti, con lo scopo e la speranza di giungere a una diagnosi. E lei racconta che c'è stata anche una certa superficialità con cui sono stati scritti e riscontrati referti completamente diversi, anzi ai primi traumi se ne è giunto un altro, racconta la visita cruenta da parte di uno specialista che gli ha riportato anche un danno alla corona vertebrale. E racconta Maria, ora non sono più in grado di camminare se non per pochi metri, né di svolgere tutte le funzioni quotidiane che prima assolvevo. E con grande disperazione nell'indifferenza assoluta di chi mi circonda ho trovato l'unico sollievo, e non è poco, nell'ascoltare quotidianamente la storia di Padre Pio da Pietrelcina. Quindi Padre Pio TV mi tiene una grande compagnia. Sono credente, ma sono stata poco presente nelle varie funzioni religiose. Nel mio piccolo ho sempre cercato di aiutare il prossimo con amore, con spirito di sacrificio. In cambio ho solo potuto constatare l'assenteismo e l'abbandono di chi potrebbe aiutarmi in questo periodo così buio della mia vita. Ma è proprio in questo periodo buio della mia vita che mi viene incontro Padre Pio, che spesso lo invoco e accoglie le mie preghiere. Premetto che sin dalla mia giovanità ho spesso pensato che sarebbe stato bello conoscere il grande frate di Pietrelcina e ora più che mai attraverso la lettura di coloro che hanno avuto la fortuna di vederlo. Mi consolerebbe anche solo uno sguardo per lenire le mie sofferenze. Mi rendo conto che è solo un sogno, comunque lo sento sempre vicino, quotidianamente. Non nascondo che prego a modo mio, sicuramente sbagliato, ma lo faccio col cuore. Spero tanto nell'intercessione di San Pio affinché mi faccia ritrovare una strada per uscire da questo tunnel, da questo buio. Prego anche per chi mi sta attorno affinché si ravveda e abbracci la misericordia di Dio. È pur vero che non si finisce mai di imparare, ma ciò che ho notato mi rattrista in quanto una parte del genere umano è distratta, confusa, lontana da quelli che sono i veri valori di questa vita. Ed io confido e spero tanto nella pietà di Dio e nell'intercessione di San Pio da Pietrelcina per tutte queste persone affinché riprendano il corso della loro vita. Grazie per la visione!